Credo che vada fatta a chiarezza, il vitalizio non c'è più, magari utilizziamo anche questa trasmissione per farlo sapere all'ex Presidente del Consiglio che il vitalizio dal 1 gennaio del 2012 è stato cancellato, quindi c'è un contributivo, il parlamentare versa un tot e quel tot ha 65 anni, io ho 40 anni, quindi tra 25 anni non è la mia aspirazione quella di stare qua e aspettare 25 anni per, no? Quindi è evidentemente l'elemento... Ma aggiungo che se avesse fatto un altro lavoro invece del parlamentare questi anni sarebbero valsi ai fini della sua poi pensione, no? Quindi è uguale, in questo senso è una condizione... Diventa l'elemento ricattatorio che l'ex Presidente del Consiglio usa nei confronti della propria classe direttiva.